C'è ancora chi ha dubbi su dove indossare la mascherina FFP2 e quando devono essere utilizzate. La mascherina in genere si indossa sia al chiuso che all'aperto. C'è obbligo di indossare la mascherina FFP2 sui mezzi pubblici, agli eventi, nei ristoranti e nei luoghi molto affollati. Per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività lavorativa, la mascherina è obbligatoria. Nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore è comunque fortemente raccomandato l'uncoso delle mascherine all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. La FFP2, quando si usa e quando è obbligatorio usarla, andiamo nel dettaglio. Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto, nelle sale teatrali, nelle sale da concerto, nelle sale cinematografiche, nei locali di intrattenimento e musica del Vilovo e in altri locali assimilati. Per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono sia al chiuso che all'aperto. Per l'accesso e l'utilizzo dei voli, commerciali, navi, traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni e in tutti i mezzi di trasporto come autobus, pullman, eccetera. Per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al covid e che sulla base della recente normativa non sono soggette alla quarantena, ma soltanto all'autosorveglianza fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione con il soggetto positivo. Le mascherine chirurgiche o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione come le FFP2 devono essere indossate nell'ambito di attività economiche e sociali, ad esempio, abbiamo detto, la ristorazione, le attività turistiche, ricezione, i centri benessere, i servizi e la persona, il commercio al dettaglio, i musei, le mostre, i circoli culturali, i convegni, i congressi e nelle situazioni previste dai protocolli di settore. In tutte le altre situazioni, salve che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere anche utilizzate le cosiddette mascherine di comunità monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e al contempo garantiscono comfort e respirabilità, forme aderenza adeguata a coprire il volto, il mento, fino al sopra, il naso.